Ok, riesci a riprenderti con la Davida? Sì, 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 io così riesco a riprenderti con la Davida. Allora, ufficialmente il primo selfie di Selfie for Peace viene fatto da Dino Tinelli, che non essendo presente il giorno del 21 per gli impegni precedenti, è almeno la soddisfazione di essere il primo a fare il selfie. Sono qui presente nel meraviglioso studio, laboratorio, negozio del nostro Montellic, adesso lo chiamiamo Montellic, per questo... Selfie! Amo, messaggeriamo Selfie for Peace, selfie per la pace, perché il 21 settembre 2018, vale a dire questo mese, ricordatevi di venire a Ravenna, perché c'è una festa della pace per la pace. Messaggeriamo Voglio fare il primo selfie con la Davida. Selfie! Ecco, l'ho fatto! Amo! L'ho fatto adesso, il primo selfie. E Francesco? Lo mandi? Alla mail? Ah sì, ecco, io sono sempre un po' con la testa fra le nuvole. Dovete mandare il selfie con la Davida alla e-mail, fatta apposta, che è facilissimo, La Davida La Davida Messaggeriamo Perché questo? Perché c'è un progetto proprio sulla pace, che adesso invito Francesco a spiegare, perché io non ricordo tutto, ma è importante questo. Siccome non tutti possono andare, come ho fatto io, a Ravenna a fare questa cosa, potete comunque inviare la vostra foto e sicuramente Francesco farà in modo di far sì che sia come un selfie. Sì, uno sfondo con la Davida. Francesco, vieni qua a spiegarlo, non stare dietro alla telecamera, ok? Allora, sono molto contento che per puro caso, anche se a caso non credo fino in fondo, anzi non ci credo per niente, che sia Dino Tinelli il primo messaggero che si fa le selfie for peace e sarà il primo messaggero dei mille sul target che vorremmo raggiungere. Nei primi mille! Nei primi mille, nei primi mille, che verranno immortalati nel basamento dei magnifici che sarà... Immortalato? Sì, perché è una testimonianza, nella sua semplicità, l'essere presente nel giorno della pace che secondo la mia esperienza va sottolineata e corriciata. Essere messi nel basamento dei magnifici testimoni una volta per tutte che quelle persone quando hanno incontrato la pace hanno detto sì, voglio avere a che fare con te perché abiti dentro di me ed è assurdo non conoscere una parte così intima e concreta di noi. Per cui Tinelli è uno dei personaggi che io ho, diciamo, desiderato e che poi la vita mi ha fatto conoscere che sarà un messaggero di messaggeriamo. È il fatto che sia ufficialmente il primo surfer, no? Surfer? Surfer. Do you say a surfer? I don't understand. È giusto? I don't know, I don't speak Italian. Me too. Io ringrazio invece Francesco perché ha veramente la pace e me la sta trasmettendo. Oggi è così, me la sta trasmettendo. Invito tutti a questa azione meravigliosa che mi auguro possa riempire di pace a chi vuole stare in pace. Selfie! L'importante è che mandate il vostro selfie quelli che non possono arrivare a Ravenna prima, ma quelli che possono dopo, venite! Perché la Davida è un monumento da vedere, è veramente eccezionale. Ve lo dico perché ce l'ho qua davanti. Ok? Dovevi dire qualcos'altro? Sì, che magari per scaricare la foto, per farsi il selfie da casa, per chi non può essere presente quel giorno lì, troveremo la via dove poter scaricare direttamente le immagini della Davida da poter utilizzare. Certo. Non so se si possa fare utilizzando Facebook, perché ho un gruppo di Facebook aperto dove si può scaricare. Non so, niente. Faremo sapere breve. Ma anzi, potete fare così. Questa è l'idea che mi è venuta adesso, perché oggi non ci siamo inventati niente, nel senso che... Però, metti una bella foto della Davida sullo schermo e vi fate il selfie con lo schermo del computer, così vi fate il selfie della Davida. Davida! La Davida! Guarda, 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 rifacciamo questo pezzettino qui, perché questa cosa che hai detto adesso è geniale. Ok. Abbiamo fatto come fanno tanti, abbiamo tagliato, perché ci è venuta un'idea meravigliosa. A te! A me! Allora, come fate a fare del selfie senza la Davida? Molto facile. Francesco, in arte Montelic, metterà un link con la foto, con l'immagine della meravigliosa Davida alle mie spalle. Il selfie vi mettete davanti al vostro schermo del computer, quelli più attrezzati, magari hanno il mega televisore, e vi fate il selfie con alle spalle l'immagine della Davida. E poi la inviate a ladavida. Chiocciola, email.it e sarete fra i primi fortunati, desiderosi, di questa meravigliosa opera. Ok? Selfie! Ci siamo! Grazie! Vi vogliamo bene! Messaggeriamo! Grazie, Francesco! Grazie a te, Dino! Taglia!